Un attimo di pazzo, oh mi sentite, buongiorno a tutti, benvenuti anche da parte mia, grazie di essere qui alla mia sessione su Traveler, anche se mi hanno detto che ce n'erano altre molto più interessanti su Xpage, no scherzo, oggi è il compito di intrattenervi fino all'ora di pranzo raccontandovi un po' di novità su quello che è Traveler, un po' di ultime evoluzioni, novità sugli ultimi rilasci, avremo anche una sorpresa verso la fine con alcune esperienze sul campo, quindi qualcosa di concreto da chi vive tutti i giorni presso i clienti, presso molti di voi magari, supportandovi, quindi aiutandovi a implementare le nostre soluzioni. Un breve riassunto di quello che vedremo da qui a luna circa, prima del pranzo, chi sono io, l'evoluzione in ambito mobile della piattaforma Notes e Domino, Traveler, che cos'è Traveler, le novità e come detto appunto qualche caso reale, quindi qualche esperienza vissuta sul campo. Chi sono? Io sono Davide Esini, lavoro in IBM come tecnico di prevendita, faccio varie attività, magari con qualcuno di voi ci siamo anche visti durante varie, magari altre sessioni come queste o altre attività. un po' di storia lavorativa, nel 92 ho iniziato a lavorare nel mondo dell'informatica come programmatore, adesso mi fa un po' ridere perché non mi ricordo più nulla di programmazione ma come diceva Giuseppe stamattina anch'io ho iniziato a collegarmi alle BBS, con i modem, quelle cose un po' strane che al giorno d'oggi magari molti di voi o qualcuno di voi si ricorda, qualcun altro, non sa neanche cosa sono, ma beata gioventù. Nel 93 sono passato in Lotus, non la Lotus, quella gialla che fa ridere, ma qualcuno mi diceva lo vuole in Lotus, ah quelli delle automobili, non proprio, fazzolettine è andata bene, un altro nostro collega dice, neanche questa? Quella dei fazzolettini, vabbè. La Lotus, del Lotus 1-2-3, anche qua, della Smart Suite, di Notes 3-0-A, la prima versione sulla quale ho messo mano e ho iniziato a lavorare come tecnico di prevendita e quindi a vedere tutte quelle che erano le offerte dell'azienda Lotus dell'epoca, tra cui Sinfony, quello originale, più n altri prodotti nel corso degli anni. Nel 95 IBM ha deciso di comprarmi, quindi ha detto, pagherò un tot milione di dollari per la Lotus, non per Davide Iesini. Nel 2001 sono entrato al 100% all'interno di IBM, anche se, come dico spesso, il giallo rimane dentro, il giallo Lotus. Per il futuro non si sa mai, al giorno d'oggi mai parlare di futuro. Chi sono come persona nella mia vita privata, giusto, magari può interessare o può non interessarvi. Mi piace il basket, come vedete dalla mia perfetta tecnica di tiro e dal fatto che ho messo due volte un pallone al basket, la musica, suonare, n altre cose, le magie che si fanno spesso dai clienti per cercare di far funzionare le cose. Tutto questo, provo a suonare la chitarra, fino a, insomma, un giorno è cambiato tutto, un giorno di 4 anni, un giorno fa, è cambiato tutto nella mia vita perché sono arrivati prima uno e poi l'altro due esserini che al giorno d'oggi, insomma, al di là del lavoro mi occupano tutto il resto della mia vita. Quindi niente più musica, basket, eccetera, 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 ma non mi lamento. Che tristezza, no! Ecco, finita questa parentesi su chi sono, cosa faccio, volevo, giusto per tarare al meglio la sessione di oggi, chiedere a voi, ovviamente non uno a uno, ma chiedere quanti di voi, per alzata di mano almeno riesco a decidere bene cosa raccontarvi. Quanti di voi già conoscono Traveler? Praticamente tutti. Quanti di voi l'hanno installato server? ACP, quasi tutti. Quanti di voi usano Traveler sul proprio device mobile? Va bene, vi leggerò la Divina Commedia per un'ora adesso perché ormai non ho più niente da raccontarvi, visto che già conoscete tutto. Allora andrò abbastanza veloce sulle prime due slide che spiegano cos'è Traveler e poi invece vediamo le novità delle ultime release. Se avete domande durante la presentazione, eccetera, fatele tranquillamente, io cercherò di rispondere. Sarò qua anche durante la sessione chiede agli esperti e comunque avremo tempo anche alla fine. Giusto due parole su una breve storia del mondo notes, domino e i device mobili. Traveler è un prodotto abbastanza recente, data la mia memoria storica, io sono un po' come gli elefanti, che ho una memoria storica di quanto è avvenuto in Lotus. Forse qualcuno di voi si ricorda EasySync, prodotto per sincronizzare il client notes con dei device, soprattutto Palm, all'epoca quando c'era Palm OS. Poi siamo passati ad avere una componente server che si chiamava Everyplace Enterprise Server, domina Everyplace Enterprise Server. Il link lì mostra una foto di alcuni nostri colleghi americani, tra i quali Scott Sauder, molto giovane, non diteglielo, è pubblica su internet. E poi finalmente siamo arrivati a Traveler. Traveler oggi è, se vogliamo, un po' un fiore all'occhiello della nostra offerta in ambito domino. L'evoluzione, agosto 2010 viene rilasciata la versione 8.5.2, un anno dopo, un po' più di un anno dopo, viene rilasciata la prima major release, la 8.5.3, dentro domino. Notes Traveler, penso lo sappiate tutti, è già compreso, è un servizio già compreso all'interno del server domino. L'8.5.3 ha vari aggiornamenti, upgrade pack o interim fix, sapete, ormai penso che ci conosciate come IBM e noi rilasciamo gli upgrade pack, dove trovate spesso anche delle nuove funzionalità o le interim fix, che sono magari o delle fix specifiche o dei pacchetti cumulativi di fix. A marzo di quest'anno abbiamo rilasciato la 9.0, 9.0 che ovviamente supporta la versione 9 di domino, è la prima major release dopo la 8.5.3, quindi a distanza di quasi tre anni, viene rilasciata questa nuova versione, nuovi device supportati, visto che il mercato è in continua evoluzione anche qua, nuove piattaforme, la 9.0 può aggiornare una qualunque versione precedente e richiede, come detto, un server domino 9. Fondamentali, come ho detto, la mia passione per il basket, i fondamentali sono fondamentali appunto nel basket e anche, giusto per dire che osai Traveler, anche se mi sembra di capire che tutti voi già lo conosciate, però lo strumento che permette il collegamento della posta di un server domino con dei device mobili è un task del server, di fatto installo un server domino, metto installo Traveler che non è altro che un task del mio server e sincronizza la posta, il database di posta degli utenti, posta, contatti, agenda, to do, eccetera. L'autenticazione, una cosa che magari qualcuno si dimentica, l'autenticazione avviene tramite l'utenza internet, quindi o indirizzo internet o short name, eccetera, e la password di internet, qualcuno a volte si dimentica che l'utente non ha la password internet perché è un utente solo notes. Questa slide è molto chiara su che cos'è Traveler, direi che non c'è nulla da commentare, no, questa è una slide reale che mi ha dato un collega russo, che poi io ho tradotto conoscendo alla perfezione il russo e usando Google Translator. se vogliamo qua un po' più in dettaglio che cosa mi permette di fare Traveler, quindi sincronizzazione bidirezionale, mi permette di installare, o meglio, Traveler di fatto ha un solo client, noi come IBM rilasciamo un solo client installato come app su Android, sulle altre piattaforme, diciamo principalmente oggi iOS e Windows Phone o Windows 8 per tablet, sfruttiamo quelli che sono i client nativi del sistema operativo. Opera con tutte le connessioni, quindi da una connessione via rete 3G, 4G, eccetera, Wi-Fi senza problemi, Traveler mi permette anche di gestire delle politiche di sicurezza. Vedremo dopo come Traveler ovviamente gestisce la politica di sicurezza nel suo ambito e mi permette anche un minimo di gestione del device mobile, ovvio che se voglio fare una gestione al 100% del mio parco di device mobili, mi appoggerò magari a un sistema di MDM specifico. Flusso logico, quindi che cosa mi permette di fare? Vabbè, questo è molto semplice. Il Traveler Server, come detto, è un server domino, ha tutti gli effetti sul quale viene installato il task di Traveler, quindi gli utenti si collegano al server Traveler e poi il server Traveler parla con i server domino di posta. Anche qua, una cosa banale però, nulla mi vieta di avere un unico server che fa tutto, vivamente è consigliato avere un server Traveler che fa solo quello, quindi che fa solo la gestione dei device mobili e poi i miei server di posta separati. Vari rilasci per Traveler sia nel 2012 che nel 2013. Vediamo una sola slide per quanto riguarda il 2012, con tutti quelli che sono i rilasci di Traveler durante l'anno, quindi i vari upgrade pack, piuttosto che i rilasci, la beta della 9, è stato un grosso successo, molti di voi penso hanno scaricato la beta della versione 9 di Traveler per provarla con appunto Domino e Nuts 9. Aggiornamenti anche per quanto riguarda il cloud, molto importante per noi, per IBM, Smart Cloud per noi è uno dei nuovi temi sempre più importanti. Quindi vedete come c'è molta attenzione al prodotto, Traveler, molti clienti dicono è il prodotto migliore dell'IBM in alcuni casi, perché se vogliamo anche molto semplice è un oggetto che mi permette di connettere ai miei ambienti e di solito funziona piuttosto bene. Poi i miei colleghi magari mi smentiranno. Quindi abbiamo visto molti rilasci durante il corso del 2012 per tenere aggiornata la piattaforma, 2013, veniamo a noi, a marzo è stata rilasciata la versione 9 di Traveler con una serie di novità riguardanti piattaforme supportate, ma non solo. Vediamo un po' più nel dettaglio. Per quanto riguarda il server, sono state aggiunte nuove piattaforme, Windows 2012, IBM AI, quindi possibilità di avere anche sulla S400 classico Traveler e il supporto nativo ai 64 bit per le piattaforme Linux, cosa che prima invece erano solo a 32 bit. Non vengono più supportati, anche perché vengono dismessi anche dai produttori, Windows 2003, server, slash 10, redact 5. Per quanto riguarda invece i sistemi operativi, lato client, quindi lato utente, è stato aggiunto il supporto di Windows Phone, noi supportiamo Windows Phone 7.5, 7.8 e 8, quindi copriamo tutta quella che è la parte Windows, vengono supportati i tablet Microsoft, quindi con su Windows 8 RT e Windows 8 Pro, quindi sia i tablet con processori Intel che i tablet con processori ARM, ed è stato aggiunto il supporto di BlackBerry 10, quindi il nuovo sistema operativo BlackBerry. Anche qui, lo vedremo un po' più nel dettaglio, sia in maniera diretta, BlackBerry 10 supporta ActiveSync come protocollo, sia tramite il BES come avveniva in precedenza. Per chi dovesse avere ancora delle utenze, dei client, dei device che montano Windows Mobile, quindi la vecchia versione di Windows per device mobile, o Symbian, quindi chi ha ancora dei Nokia, con su Symbian, questi sono supportati, non è più installabile, su queste due piattaforme c'è un client da installare, non è più installabile direttamente dal server, quindi non posso collegarmi al server, il server non ha il kit di installazione fisicamente al proprio interno, ma il kit è comunque reperibile tramite il nostro supporto, potete richiedere, se avete ancora dei client di questo genere dovete installare il client traveler, e nel caso andate ad aggiornare un server traveler che ha dei device di queste piattaforme, questi vengono comunque mantenuti e gestiti dall'ambiente, senza problemi. Un accenno ai BMI, siamo in casa nostra, quindi giusto un breve accenno. I BMI, se avete dei clienti o siete un cliente che avete la piattaforma BMI, potete sfruttarla anche per accedere a Traveler e per dare questo servizio. È praticamente identica alle versioni che troviamo ad esempio su ambienti distribuiti, di Windows, Linux, eccetera. C'è un ottimo documento nel wiki, spero che tutti conosciate il wiki di Domino e Notes, dove ci sono parecchie informazioni, trovate sia la documentazione ufficiale del prodotto, che articoli scritti magari anche da voi, dai nostri partner, eccetera. Dicevo, c'è un ottimo documento che dice come installare Traveler su BMI. Le uniche differenze, diciamo quelle più importanti, la versione per i BMI è solo a 64 bit, e questo però non può che essere un vantaggio, vedremo dopo che noi stessi consigliamo vivamente l'utilizzo di server a 64 bit, e che viene supportato Derby nell'installazione stand alone, Traveler poi vedremo, usa un database di questo genere in locale, oppure DB2, là dove vado a creare, a fare installazioni in alta affidabilità. A differenza delle altre piattaforme non viene supportato SQL Server. Il vantaggio è che DB2 è già dentro la piattaforma, sui BMI, su S400 avete già il DB2, potete sfruttare quello che già avete senza problemi. Mondo Windows, sia Windows Phone che Tablet, come detto anche qua non c'è bisogno di nessun client, vengono sfruttate le applicazioni native della piattaforma, si utilizza ActiveSync per la sincronizzazione, ActiveSync è diventato un protocollo ormai standard per comunicare con i vari device e non solo. Per chi parteciperà alla sessione di stasera di Scott Sauder, scoprirete che ActiveSync verrà usato all'interno di Domino anche per collegare client alternativi. Per accedere si utilizza l'indirizzo internet, nel caso di Windows Phone 7.5 e 7.8 viene usato l'alias di dominio. Alcuni dei limiti, poi come detto tutte queste informazioni le trovate comunque nella wiki, io ho cercato di darvi un po' di flash, non è possibile spedire o ricevere posta criptata, al momento con Windows Phone o Windows su tablet, non è possibile per chi ha emandato un invito dal proprio calendar fare modifiche su questo invito dal device mobile, così come non è possibile, là dove riceve invece un invito a un appuntamento, non è possibile chiedere di spostare la data o l'ora. Non c'è ancora il to do supportato su queste piattaforme e solo per Windows Phone 7.5 e 7.8 i dati in locale, quindi tutto ciò che viene sincronizzato in locale sul device non è criptato. Nella versione 8 invece i dati vengono criptati, quindi non criptatura dei messaggi di post, ma proprio dei dati che risiedono sul device. BlackBerry, BlackBerry 10, anche qua supporto della piattaforma, il nuovo OS di BlackBerry, anche in questo caso nessun client richiesto, sfruttiamo quelle che sono le applicazioni native della piattaforma, ci sono due modalità per collegare l'ambiente domino a dei BlackBerry, una, anche qua, tramite ActiveSync, BlackBerry 10 supporta ActiveSync nativamente, e quindi è come se fosse un device, ad esempio iOS, Android, eccetera, viene gestito completamente dall'ambiente traveler, anche la parte di sicurezza, quindi nuovamente posso gestire tutta una serie di parametri, oppure posso continuare a gestire i device BlackBerry 10 come facevo con le versioni precedenti, quindi utilizzo un BES, là dove ho appunto un BlackBerry Enterprise Service 10, utilizzo un BES che sarà lui a questo punto che gestisce tutto l'ambiente dei device, quindi non sarà traveler direttamente, quindi tutta la parte di sicurezza, sincronizzazione, eccetera. Il vantaggio di usare BES è che BlackBerry con la versione 10 ha introdotto una cosa che molti stanno guardando, cioè la possibilità di avere due perimetri, come li chiamano loro, differenti sul device, il perimetro personale e il perimetro lavorativo. Questo vuol dire che nel perimetro personale io, utente, dipendente dell'azienda XY, posso farci quello che voglio, non viene gestito e toccato dall'azienda, nel perimetro lavorativo invece faccio una gestione al 100%, quindi decido quali applicazioni dare, come usarle, eccetera, eccetera. Quindi qua può essere la scelta di usare il BES piuttosto che usare traveler direttamente a seconda delle esigenze. Di fatto qua uno schema che dice, che mostra appunto, posso andare direttamente via ActiveSync, l'opzione 1, da traveler verso un device BlackBerry 10, oppure utilizzare il BES, e quindi a questo punto sarà il BES che gestisce tutta la parte di comunicazione col device. 2013, grande rilascio della 9, ma abbiamo visto Traveler è un prodotto in continuo aggiornamento e evoluzione, abbiamo rilasciato la 9.001, che aggiunge funzionalità, quindi non è solo una release, una versione che introduce delle fix per magari problemi noti, ma sono state aggiunte tutta una serie di funzionalità che ci sono state chieste da voi e da tutti i nostri clienti. Una, io ne ho citate solo alcune qui, una che mi chiedono spesso è la gestione della sicurezza sugli allegati. Al momento è disponibile questa opzione per Android, dove abbiamo un client nativo, ricordo, o per iOS, dove viene richiesto l'installazione dell'applicazione Traveler Companion, un'applicazione Traveler Companion che mi permette anche di cifrare, leggere i messaggi cifrati e fare altre cose. Sicurezza degli allegati cosa vuol dire? Vuol dire che, ad esempio, io lato server posso definire là dove c'è un allegato in un messaggio di posta, se l'utente lo può leggere, lo può aprire con quale applicazione, autorizzare delle applicazioni, lo può scaricare, quindi decide tutta quella che è la sicurezza di un allegato all'interno di un messaggio di posta. Con la 9001 è stato introdotto il supporto all'Out of Office anche per Android e iOS, era già disponibile per altre piattaforme ed è stato inserito il supporto alla funzionalità di Prevent Copy. Sapete tutti cos'è? Dentro a Notes voi avete questa opzione che vi permette di dire previeni la copia di un messaggio di posta, cioè io mando il messaggio di posta, chi lo riceve, se ha un altro client Notes o un client che supporta questa funzionalità, potrà solo leggere il messaggio, non potrà stamparlo, non potrà fare il forwarder, non potrà farci nulla. L'unica cosa che posso fare è fare un print screen al massimo e stamparmi quello, però fino a lì non si riesce ad arrivare. Questa funzionalità è stata introdotta dalla 9.001 anche per i dispositivi mobili, quindi in questo momento per Android e iOS, anche qua su iOS ci vuole la componente Travel Companion, che è un'app appunto a parte. Si è aggiunta la possibilità di inserire all'interno dei meeting, i meeting online, ad esempio con Centami io posso schedulare anche un meeting online, quindi schedulo la riunione, aggiungo il meeting online, lo posso fare anche da device mobile. e poi ci sono molti altri miglioramenti. Alla fine della mia presentazione io ho messo alcuni link utili a documenti pubblici che potete raggiungere, quindi vi invito caldamente a usare questo come un punto di partenza, questa presentazione di oggi, là dove magari avete necessità di informazioni e quindi consultare questa presentazione per avere i puntatori alle informazioni corrette. Quindi volete sapere cos'altro di nuovo c'è, perché magari siete un cliente, un partner e dite ha bisogno di questa funzionalità, vado a vedere se c'è, quindi trovate il link poi alla fine della presentazione a tutto quello che è la documentazione completa. Io ho accennato solo alcune cose, Traveler Companion, avete visto che già viene usato per raggiungere nuove funzionalità, anche questo è stato aggiornato, i widget ad esempio in Android sono stati migliorati, si possono filtrare i messaggi, quindi io già nella mia schermata Android senza aprire il client Traveler posso avere tramite un widget e tutta una serie di informazioni sui messaggi, anche qua si è fatto un grosso lavoro sempre sul feedback ricevuto da voi, è stata migliorata parecchio tutta la parte di gestione del calendario in varie plateforme e poi come detto ci sono parecchie migliorie che sono state fatte, oggi non mi sembrava il caso di elencarle tutte, ho pensato di mettervi le cose che secondo me sono più significative in base alla mia esperienza sul campo. due parole se voglio aggiornare la 9001, allora la 9001 comprende tutte quelle che sono le fix, gli aggiornamenti rilasciati con le versioni precedenti sia dell'853, l'853 è l'ultima versione l'upgrade pack 2 l'inter in fix 4, scusate, e la 9001 inter in fix 1 tutte le fix funzionalità sono comprese nella 9001 e poi abbiamo visto sono state aggiunte anche nuove funzionalità. Una cosa importante, se siete un cliente Passport Advantage, se siete un partner, Partner World, mi sembra adesso non mi ricordo bene, se scaricate la 9001 da Passport Advantage o da Partner World, quel kit di installazione potete usarlo per qualunque tipo di installazione, per aggiornare qualunque versione precedente o per installare un nuovo ambiente, quindi prendo quel pacchetto e ci installo quello che voglio, installo ovunque, quindi vecchie versioni già installate, si estendono anche in alta affidabilità piuttosto che nuove installazioni, va bene per fare queste installazioni. Se scaricate da fix central, vi scaricate solo un delta, quindi la fix, un delta e richiede la 900x, quindi ho la 9001 o la 9001 interim fix 1, quindi se scaricata la fix central, quel kit vi permetterà di installare solo su un ambiente già esistente installato con questa versione. Richiede un server 9x, consigliato la 9001 interim fix 2 o successiva, insomma raccomandata. poi c'è il link anche alla tech note. Non è finito, nel 2013 abbiamo rilasciato ancora una interim fix da poco, di fatto questo è un pacchetto che contiene delle fix a tutta una serie di bug scoperti, essenzialmente per la componente server e per i client Android, anche se questo potrebbe essere ovvia come cosa, sugli altri device non abbiamo software nostro, quindi comunque ci sono tutta una serie di fix sia lato server che sul client Android. Una cosa importante, trovate, citate le due tech note che fanno riferimento a questa cosa, non vi ho messo tutto il link perché mi sembrava inutile, con la IF1 supportiamo iOS 7, quindi magari molti di voi l'altro giorno erano lì a scaricarsi la nuova versione del sistema operativo, supportata anche questa ufficialmente da Traveler e è altamente raccomandata per chi ha BlackBerry 10. Sono state inserite tutta una serie di fix lato server per sistemare alcuni problemi su BlackBerry 10. Ho ricevuto un feedback giusto oggi che mi diceva, qualcuno mi diceva ah, ho BlackBerry esatto, e ho messo sulla Interim Fix 1 effettivamente ma ha risolto parecchi problemi. Essendo una Interim Fix dovete per forza installare la 9001. Quindi questa, non esiste un pacchetto che mi installa direttamente questa Interim Fix, dovete installare la 9001 e fare l'aggiornamento. Ok, io sono stato abbastanza veloce. Una visione un po' più operativa della piattaforma. Giusto qualche consiglio banalissimo ma io ho pensato bene di mettere appunto come una specie di bigino. Traveler, la versione di Traveler deve essere corrispondente alla versione del server Domino su cui vado a installare. Quindi se installerò Traveler 8.5x devo avere un server 8.5x e così via. Quando Traveler si installa di default lui si installa come stand alone quindi non in configurazione in alta affidabilità la versione standard diciamo di stand alone di Traveler utilizza un database derby già compreso all'interno del pacchetto quindi è di fatto un database su file system per inserire tutta una serie di informazioni e configurazioni. Nel caso in cui voglio fare un ambiente in alta affidabilità allora dovrò avere un database centrale quindi verrà di fatto il sistema provvederà a puntare anziché al database derby locale a un database enterprise chiamiamolo così supportati DB2 e SQL Server SQL Server ovviamente come detto prima non su piattaforma VMI quindi nel caso in cui voglio fare un'alta affidabilità ci sarà questo database centrale nel quale vanno a finire tutte le configurazioni nel quale tutti i server Traveler della mia configurazione in alta affidabilità punteranno e leggeranno le varie informazioni banalmente quando installate Traveler il server domino deve essere spento quindi se dovete farlo in produzione dovrete farlo di sera a fine settimana insomma sappiamo benissimo consigliata vivamente sottolineo vivamente la versione 64 bit dei sistemi operativi 32 bit è ci sono ancora le versioni 32 bit fattibile usabile noi consigliamo o solo per piccole realtà piccole oppure per degli ambienti di test di prova demo eccetera è supportato anche in ambiente virtuale quindi posso metterlo su macchine VMware eccetera eccetera alcuni esempi di installazioni questa è l'installazione stand alone un esempio molto banale i miei device accedono normalmente o meglio posso mettere il server travel in DMZ oppure metterlo al mio interno quindi accedo al mio server traveler che poi mi da legge le informazioni sul server di posta il server traveler deve essere in grado di accedere e leggere informazioni sul server di posta intanto magari qualcuno si dimentica il server traveler non ha accesso alle caselle degli utenti per l'affidabilità come dicevo questo è un altro schema dove anziché avere il server traveler in DMZ ho un reverse proxy o il mobile connect poi dopo lo vedremo un po' più nel dettaglio ho il mio server traveler come detto o meglio ho i miei server traveler che da un lato puntano al database di posta e dall'altro al database relazionale nel quale leggono le configurazioni quindi ho la possibilità appunto di switchare a seconda del server attivo eccetera una configurazione ulteriormente avanzata tra l'altro questa è una configurazione reale ci sono gli pbm tra l'altro dove oltre ad avere un reverse proxy ho anche uno strumento che comunque lo vedete spero si legga tivoli endpoint manager nel nostro caso quindi ho un prodotto che mi fa gestione dei device un mdm vero che si preoccupa quindi di gestire tutto quanto è lato device quindi il server traveler si preoccupa della parte di posta e agenda contatti eccetera eccetera tutta la parte di sicurezza viene demandata al prodotto mdm in più poi ho un server directory led up ho i miei traveler ho un database relazionale eccetera eccetera quindi giusto per darvi un'idea di quelle che possono essere le varie alternative posso complicare ulteriormente a piacere l'ambiente dopo vedremo un altro caso reale di un cliente un'implementazione reale di un cliente giusto ok dato che Davide Iesini è questo qua che ogni tanto apre la scatola e non capisce molto cosa c'è dentro la scatola oggi ho chiesto a due colleghi che fanno di lavoro di mestiere vanno a aprire le scatole montarle smontarle di fare un intervento raccontandovi la loro esperienza sul campo quindi vedere un po' più lato operativo cosa vuol dire andare a installare problemi che si trovano insomma un'esperienza diretta quindi chiedo a Simone Antonio di salire sul palco lascio la parola a loro voi e te allora un secondo solo gelato grazie aspetta mi attivate prova sentite questo questo mi sentite buongiorno a tutti io sono Simona Pedrinazzi Antonio Leandri facciamo parte del team di Accelerate Value Program che non è nient'altro che il primo support conosciuto almeno era conosciuto così già ai tempi di Lotus noi cosa facciamo noi andiamo sul campo e facciamo un supporto avanzato nel senso che siamo una via di mezzo tra il supporto quello che voi conoscete telefonico e il supporto on site che viene richiesto in caso di problemi oppure anche in forma preventiva quello che vorremmo raccontarvi oggi sono delle esperienze ovviamente non possiamo dilungarci perché spesso stiamo giorni dai clienti magari non su Traveler ma su Domino portali eccetera però vorremmo magari ricordarvi alcune alcune fondamentali practice da seguire loro sono le persone a cui chiedere perché io tutto fumo e loro sono l'arrosto noi come arrosto non facciamo nient'altro che andare a cercare sui wiki oppure a chattare direttamente con i laboratori quando la situazione è veramente drastica non sminuire le vostre capacità la verità il primo suggerimento che mi sento di dare a tutti soprattutto se qua ci sono degli amministratori è quello di aprire il primo documento che sono le best practice leggerlo e seguirlo perché spesso un'implementazione di Traveler è fatta in un'ora funziona sono tutti felici poi iniziano i problemi primo problema sicuramente dopo un po' di mesi è il database soprattutto se diciamo l'installazione non è in alta affidabilità è il database interno cosa succede? iniziamo ad avere problemi di CPU rallentamenti device utenti che dicono ma come mai non riesco ad accedere è lento nel primo documento che vi ho suggerito vi dice assolutamente come interpretare alcuni comandi fondamentali che ci sono sul Traveler lo status la memoria perché no le statistiche quelle cose strane anche perché le statistiche sono tante quelle utili sono sei lì dentro c'è scritto tutto seconda cosa e lì lo suggerisce è quello di creare di fare il defrag del database corba ma non quando si ha il problema che poi si è in produzione ci impiega in mezz'ora no prima il defrag è raccomandato non è niente di grave fatto alla ripartenza del server impiega 5 minuti 5 fatto in condizioni estreme ci impiega anche mezz'ora a me è capitato di essere in produzione 45 minuti con tutta una serie di scritte e il cliente che era lì diceva riparte vediamo perché se è particolarmente danneggiato non riparte ma se non riparte vuol dire che tutti i device hanno perso tutto perché rifanno un setup da zero e questo chiaramente non lo auguro a nessuno qua perché vuol dire VIP che sono fermi che chiamano da ogni parte del mondo e ti dicono ho un problema in realtà non è nient'altro che rifai il sync ma ci impiega tanto quindi il defrag l'ho scritto fondamentale oltre a farlo regolarmente basta mettere un parametro nel nozzini e decidere ogni quanti giorni farlo ovviamente la raccomandazione sono 30 giorni dipende perché se ho mille utenti magari lo faccio anche 20 giorni tipicamente io metto ho sempre messo 30 anche su realtà con 300 utenti non è mai successo nulla calcolate che quando fate il reboot avete qualche minuto in più per farlo il defrag se sono passati 30 giorni nelle best practice spiega che è possibile anche lanciarlo in case estremi andando a modificare dei parametri del nozzini per anticipare i 30 giorni adesso questa presentazione non la farei però seguirei veramente le best practice l'altra cosa un comando che io spero che tutti voi lo conoscete chi non l'ha mai sentito il tell traveler status nessuno per alzata di mano nessuno l'ha mai fatto ok spero tutti se no inizio inizia a preoccuparmi ok dallo status avrete notato che dà già la soluzione al problema spesso cioè se c'è uno stato di giallo piuttosto che rosso dice già qual è il problema nel documento sopra dà un'indicazione su come muoversi però ecco partiamo sempre da lì cioè quindi vediamo qual è l'errore e poi andiamo a fare un'analisi un attimino più dettagliata un'esperienza che ho avuto abbastanza di recente è stata con l'aggiornamento a traveler 9 interim fix 1 è un'esperienza che racconto qua anche se probabilmente non a tutti può interessare vi spiego il perché questo cliente ha un'infrastruttura traveler che gestisce due organizzazioni diverse di cui una seconda organizzazione è gestita in cascata quindi c'è un director assistance che gestisce la seconda organizzazione voi sapete che è supportato funziona piccolo dettaglio dalla 9 interim fix 1 i laboratori hanno fatto una modifica quindi la look up quando uno fa l'aggiornamento la look up della secondo director in cascata non funzionava più non è stato bello ve lo garantisco ce ne siamo accorti sul campo la soluzione qual è? è quello di abilitare questa nuova funzionalità che i laboratori hanno tolto quindi inserendo la funzionalità scritta nel nozzini nts travel res look up server true perché il default è diventato fault cioè è stato falso invece prima era true ribadisco è un caso estremo però se vi trovate in questa situazione vi garantisco che è l'unica soluzione per uscirne grazie un'altra peculiarità che probabilmente è stupida però mi è capitato cioè clienti che dicono ma come non va della serie installo un server traveler e mi accorgo che non riesco a fare l'autenticazione come la faccio sulla posta non riesco a entrare con il mio indirizzo di posta e la mia password perché è banale documento di server security se non imposto l'internet authentication con questi valori non ci riesco però è un qualcosa che all'inizio magari può destabilizzare gli utenti anche perché tipicamente si dice come gestisco il device in autonomia io ti do questa url e fai tutto da solo primo problema l'utente arriva ma come io sulla posta entro in questo modo e non riesco ad autenticarmi quindi attenzione è solo un reminder probabilmente tutti lo sapete però mi è capitato di gestire anche questo qui arriviamo alla diciamo quella che è per me la domanda più ricorrente da parte dei miei clienti come gestisco i device prima di tutto sono spesso device di VIP secondo perdo completamente il controllo dei device perché inizialmente penso di averne dato uno quello aziendale poi in realtà mi accorgo che se non metto nessuna impostazione di sicurezza anche 100 persone in più all'interno della mia azienda si collegano quindi cosa succede che i thread che io inizialmente gli HTTP thread avevo dimensionato per 100 device ne ho 200 quindi primo consiglio attenzione alla sicurezza perché spesso l'installazione di default lascia tutto libero poi ci si accorge che il server è lento perché in realtà ho 300 utenti in più rispetto a quelli che non ho a me è capitato da un cliente che in due mesi si è accorto che aveva raddoppiato le sue utenze e lui non se ne era neanche accorto c'erano utenti che avevano 5 device 5 diversi tutti impostati perché perché magari l'utente ha dei device li prova poi lo cambia quante volte cambiamo il cellulare tante quindi anche su questo attenzione attenzione perché è tutto carico in più su server non controllato quindi questo è la mia diciamo personale esperienza l'altra esperienza riguarda come distribuisco l'aggiornamento diciamo che ufficialmente noi abbiamo due possibilità quella di scaricarlo da google play che personalmente lo ritrovo un sistema migliore o meglio anche i miei clienti l'hanno trovato un sistema migliore oppure quella di scaricarlo direttamente dal dal sito personale che però richiede una certa come dire organizzazione o quantomeno richiede la necessità di star dietro agli aggiornamenti esperienza bruttissima abbiamo fatto un aggiornamento da un cliente è andato tutto bene i nuovi device non funzionavano momento di panico perché quando aggiorno il server per default mi va alla nuova versione di android è stato un problema se vogliamo circoscritto cioè il tipo di device era solo un samsung i9100 quello che era però l'impatto è stato il 5% di tutta la popolazione è stato veramente brutto allora dopo quell'esperienza io non so se poi è stata documentata però è scritta qua c'è la possibilità di controllare il default della distribuzione del client semplicemente dopo mi raccomando dopo aver fatto l'installazione mettere nel nozzini prima che riparta il server traveler domino il parametro nts client update uguale patch voi vedrete che per default è scritto full no patch questo permette di far partire il server domino aggiornato a livello di core senza dare l'aggiornamento del client per default che rimane quello vecchio questo qual è il vantaggio che se voi gestite voi la distribuzione del client ve lo gestite voi non so con dei device di prova con degli utenti campioni come volete voi però almeno siete liberi di controllarlo cosa che invece prima in teoria non si riusciva seconda sempre per la diciamola sempre di dispositivi android un consiglio che vi do è quello di seguire le indicazioni riportate al secondo link quello sulla distribuzione centralizzata della configurazione cioè vuol dire dare le informazioni del server già in fase di accesso alla pagina iniziale un cliente l'ha adottata e sinceramente mi ha detto comodo perché così non devo più dire qual è il server perché voi sapete che nella configurazione android viene passato tutta l'url con username password nome del server e quant'altro questo è un sistema ufficiale per gestirlo insieme a google play cosa ho visto fare non ufficiale non supportato ma funzionante noi negheremo io nego però l'ho visto e funziona perché prima di tutto vi dico il perché perché sennò dite ma ho un cliente che distribuisce dei device a utenti che non hanno un account google voi direte perché non lo so però così è questi utenti questo cliente meglio ancora dice io non voglio gestirmi hanno quasi 10.000 utenti quindi sono veramente tanti diciamo gli utenti che hanno il traveler sono circa mille non sono tutti ma sono tanti e loro cosa mi hanno detto ma io vorrei dare il diciamo l'apk quello che viene scaricato da google ma glielo voglio dare io così non mi devo più preoccupare se hanno un account google play io glielo do glielo installo glielo do il dispositivo e poi fanno quello che vogliono questa cosa non si può fare ufficialmente io presumo che ci siano delle regole non lo so però ufficialmente non si può fare ma l'abbiamo fatta nel senso che siamo andati con un dispositivo android abbiamo scaricato lo trovate sulla root del dispositivo all'url data app comp punto apk quello è l'apk quella apk non ha nient'altro che una property che non vi dirò qual è dentro che dice che non deve fare aggiornamenti installata quella sul dispositivo lo si consegna all'utente l'utente se lo configura e a quel punto funziona non farà mai aggiornamenti ovvio però funziona io non ve l'ho detto ma sappiamo che il cliente ha accettato che questa cosa non è supportata dai bm quindi se qualunque cosa noi non possiamo toccare premessa importante io sono di bm quindi non dovrei come dire andare in giro a dire però quando sono io che sono dal cliente sono io che ho davanti il cliente che mi dice ma come faccio io che ho utenti che non hanno google play al di là della mia risposta è dagli un cellulare normale perché tanto cosa se ne fanno però quello non lo possono fare perché per policy lo devono dare alla fine noi ci troviamo a dover trovare una soluzione che sia compatibile con le esigenze del cliente e che non vada in maniera macroscopica contro quelle che sono le best practice non esiste una best practice che ti dice la pk lo devi per forza scaricare diciamo dal tuo server hanno introdotto google play ci sono n modi per accedere a quello che sono i dati sul device perché no quello che mi dico io è fatti i test perché noi l'abbiamo fatti questa è una cosa di una settimana fa funziona ma magari testatelo anche voi prima di farlo consiglio vai vai di domanda la domanda è ma se hanno mille device ce l'avranno un mdm si ce l'hanno non è il nostro tivoli non so che marca è ce l'hanno però loro preferiscono preparare sempre con il loro mdm delle sorte di immagini con l'installazione già predefinita proprio perché hanno una serie di device che sono tutti dello stesso tipo e quindi vogliono avere delle immagini da riportare perché mediamente loro fanno un cambio di device ogni anno e hanno blocchi di tipo 100 150 credo che abbiano una convenzione con vodafone mi sembra quindi la loro esigenza è proprio questa è quella di dire io mi arrivano i device li preparo sono già pronti io devo solo consegnare attribuire questo numero di device nasce a quest'utente nasce proprio da questa esigenza poi non farmi domande più impegnative del tipo come funziona un mdm perché non lo so però hanno avuto proprio un problema perché loro hanno un sistema che gestisce l'installazione automatica sui device ci sono altre domande perfetto vai non che io sappia che io sappia no non so se tu al momento non credo ci sono parecchie idee diciamo nel nostro team di sviluppo al momento allora il signore che parlerà questa sera Scott Sauder mi ha chiesto gentilmente di non citare nulla perché ancora non abbiamo diciamo un qualcosa che possiamo comunicare diciamo ufficialmente pubblicamente su quelli che sono i piani di sviluppo quindi al momento l'unica cosa che possiamo dire è non si sa no possiamo dire che è uno dei temi probabilmente sul piatto della bilancia possiamo escludere che non lo faremo mai però non sappiamo quando verrà fatto giusto? poi allora il nostro letto tra noi tanto siamo qua non ci sta sentendo nessuno ovviamente siamo ancora in streaming esatto siamo in attesa anche degli eventi un po' come è accaduto con Windows Phone dove è uscito la piattaforma e come IBM abbiamo aspettato prima di fare un investimento sulla piattaforma anche su Blackberry stiamo investendo non so quanto questo investimento e come sarà fatto però questo è una mia sensazione da quello che mi dicono i colleghi dicono ma stiamo decidendo cosa fare però penso che sia dovuto anche a quello ecco ecco io una domanda è già stata venduta è già stata venduta non ho capito viene effettuata soltanto la ripartenza del server per cui io metto il parametro e ogni 30 giorni mi riavvio al server no no allora mi spiego meglio allora il defrag è un comando che può essere lanciato a server attivo con un comando specifico che è quello di defrag ok va bene cosa succede il consiglio che ho dato in questa slide è quello di impostarlo ogni 30 giorni che però avviene dopo il passaggio dei 30 giorni al primo riavvio quindi cosa vuol dire che se sono passati 30 giorni e lo riavvio dopo un anno e mezzo mi spiace ma il defrag lo faccio dopo un anno e mezzo ok quindi in questo senso è il parametro prego vai allora esatto il program document è per riavviare il server eventualmente il parametro scusa il parametro il parametro l'ha capito allora il parametro va messo nel nozzini e diciamo regola il quando dopo quanti giorni viene eseguito il defrag e questo penso sia chiaro a tutti quindi scusa il defrag una volta che il parametro è attivo viene fatto ogni 30 giorni quindi se il server sta acceso un anno senza riavvio ogni 30 giorni però il defrag viene fatto no no scusate lui vende giustamente quindi no 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 allora ho capito male forse mi sono espresso male io per carità no no aveva capito giustamente allora il parametro regola solo ed esclusivamente il quando per poter fare un restart certo si può inserire un programma si può tranquillamente ma se non si può fare anche a livello eventualmente di sistema operativo poi lì dipende dal tipo di sistema operativo certo quello può essere gestito perché è come qualsiasi comando di tel da console però attenzione attenzione considerato che con questo parametro del nozzini lo posso regolare ogni 30 giorni la mia domanda è perché metterlo in un programma che massimo è una settimana quindi tutto si può fare si però ogni tanto vanno riavviati aspetta non ho sentito scusami ma hanno difficoltà ma non ce l'hanno e quindi riavviati veramente una cosa che è impossibile ma da riservarsi a casi due volte l'anno massimo in 30 giorni va benissimo in questo caso in questo caso si consiglio la gestione da un punto di vista del programma che chiaramente va demandata all'amministratore che se lo deve ricordare questo è l'unico warning che do chiaramente comunque il consiglio è fatelo come volete ma fatelo sto defrag perché quando vi ritrovate che ve lo chiede il sistema è tardi io non ho mai visto clienti in panne però se poi il defrag il comando non funziona penso che poi dopo non siano momenti belli quindi in qualche modo cercate di gestirlo questo è il mio consiglio un altro consiglio appena i colleghi smettono di chiacchierare e vanno avanti con le slide se non ci sono altre domande anzi prego solo BlackBerry 10 nel senso che tutti gli altri ok no ho un cliente che era in queste condizioni poi ha deciso di mettere il BlackBerry il BES 10 ma più che altro per gestire la componente del perimetro quello aziendale però assolutamente funzionava loro arrivavano via ActiveSync ora non ricordo se era lo stesso utente che ne aveva n diversi però no non crea problemi allora diciamo per esperienza personale non ho mai sentito di problemi ma anche a livello logico probabilmente problemi non ce ne sono nel senso che se ci pensiamo il traveler va a leggere le informazioni sulla propria casella di posta quindi i dispositivi sono assolutamente disgiunti tra di loro infatti anche nel lotus traveler.nsf lo vedete ci sono dei documenti diversi per ciascun dispositivo al limite in questo caso si rientra nel caso che ho raccontato prima il problema è che si perde il controllo del numero di dispositivi perché poi c'è un utente che ne ha 5 6 e magari alcuni li ha proprio abbandonati e lì il problema è rincorrere l'utente e chiedere ma lo usi ancora ti serve oppure andare a vedere quando è stata l'ultima volta che si è collegato insomma questa gestione non è non è facile ci sono delle policy quelle che vi consigliavo di abilitare che però hanno l'atto negativo della medaglia di doverle gestire perché c'è anche la policy che mi permette di dire io ti do massimo due dispositivi dopodiché mi chiedi l'autorizzazione vuol dire che qualcuno degli amministratori si deve anche preoccupare ovviamente ho clienti che hanno detto no no per carità lascio libero ma poi l'hanno pagata perché in due mesi si sono ritrovati ad avere 300 utenti 300 era il periodo estivo per carità ci sta però 300 sono veramente tanti il che vuol dire che la sua curva era proprio esponenziale e ovviamente i thread gli htp thread erano tarati per la macchina è andata in crash ovvio classico di quello che succede altre domande prego se io ho un BES 10 e 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 io ho un BES 10 allora prima di tutto sì sì allora in realtà io vorrei fare la mia risposta è quale potrebbe essere il valore aggiunto di avere un BES 10 cioè quello di poter gestire i dispositivi per gestirsi quella che sono le policy che dà il BES sul fatto di avere il traveler permetterebbe comunque di avere massima gestione massima flessibilità su tutti gli altri dispositivi si apre una disquisizione sul BlackBerry prego se vuoi dare risposta il blackberry 10 non usa più l'APN quindi va sugli APN tradizionali quindi di fatto non c'è più questo guadagno anche perché non è possibile perché non è possibile no infatti non si può no rispondevo alla domanda ah no quello sì ma presumo che la sua domanda fosse perché non usare usare o non usare eventualmente un BES 10 questa ah beh sì lì parla di gestione della security esatto gestione di security almeno io ho interpretato così la risposta no il suo intervento è stato giustamente cioè il traveler ci vuole per forza poi eventualmente è se voglio o meno usare un BES 10 questa poi è una scelta corretto perché il traveler perché il traveler supporta anche la diciamo la connessione diretta tramite active sync al server traveler quello che si perde tra virgolette ma è tutto da gestire valutare in casa è il come si accede si accede in quello che è il perimetro detto non business ma personale e quindi si perdono tutte le policy che BES ti dà ci sono comunque delle policy lato traveler che si possono implementare anche su questi tipi di dispositivi lì ripeto è una questione di policy aziendale scelta io ho un cliente che è partito tramite active sync che ha detto no per determinati utenti io rivoglio il BES lo pago lo voglio e lo metto lì e l'hanno messo scelta scelta comunque entrambe le soluzioni funzionano prego 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 allora fermi tutti client si intende dispositivo mobile giusto allora questo qua è diciamo un'implementazione di rete io posso arrivare al mio server travel che a questo punto sta o in DMZ o all'interno della mia intranet con diciamo un accesso tramite reverse proxy da dove voglio se ce l'ho nella intranet sì se ce l'ho in DMZ no in realtà quello è un problema di DNS nel senso che una volta che io dico che il DNS arriva su quel server il come ci arrivi non ecco sapevo che la domanda si arriva qua attenzione attenzione perché in alta affidabilità quello che cambia è l'utilizzo di un DB2 ma non è casuale perché i dati dei device sono su quello che è un database relazionale quindi in alta affidabilità si mette un DB2 proprio per poter condividere questi dati sugli n server traveler che si mettono in alta affidabilità quando ho un server traveler stand alone il dato transazionale quindi di tutti i device sono su un database corba interno al traveler ok quindi io ho avuto anche un cliente fantastico ve lo racconto perché l'ha fatto in totale buona fede che ha preso un server traveler l'ha installato e poi ha detto beh adesso di questo io mi faccio una bella mia copia di backup tanto sto su VMware in caso di problemi tiro sull'altro che problema c'è poi mi ha detto ma io ho dei problemi ogni tanto sui dispositivi qualcuno non va qualcun altro va non capisco guarda è banale quando tu mi tiri sull'altro server è vero che l'IPI è lo stesso è vero che lo raggiungi ma il database corba relazionale dentro non è aggiornato quindi i tuoi dispositivi tra virgolette impazziscono perché vanno a sincronizzare dati magari di un mese prima quindi attenzione su questo perché fisicamente il server traveler deve essere quello a livello di rete ci vado come voglio basta che arrivo a quello non facciamo giochini di averne due che ne tiro su uno o l'altro perché purtroppo non va non va forse puoi provare con un round rob in DNS ma ho qualche dubbio che vada è una questione di rete cioè tra virgolette proprio rete secondo me non va secondo me non va sì è possibile non mi sono dimenticata prego è possibile avere più utenti più utenti sullo stesso dispositivo per esempio segretaria e gilettore allora su IOS esatto su IOS sì nel senso che chiedeva se due utenti fisicamente diversi possono avere lo stesso account cioè condividere l'account lo stesso device beh no lo stesso device lo stesso device allora con IOS è possibile perché c'è la possibilità di creare il primo come profilo quindi in maniera regolare e il secondo a mano attraverso il protocollo ActiveSync presumo sia possibile anche su anche se non ho ancora provato su dispositivi Windows ma anche su Android tutto quello che usa ActiveSync Android bisogna giocare sui profili del sistema operativo ufficialmente questa è una domanda che mi è arrivata da un cliente prego ufficialmente IOS è supportato io ho un iPad sul quale ho due profili travel uno è quello aziendale uno è il mio server di test li configuro per lui sono due profili di posta così come configuro N profili differenti su Android abbiamo un client che al momento non supporta la multiutenza se non con Android 4.2 adesso dalla versione 4.2 mi sembra la possibilità di avere account Android differenti Android ti permette di avere più account del sistema operativo è un po' come in Windows entro con l'utenza A entro con l'utenza B o ambiti diversi in questo modo allora posso avere account differenti sullo stesso device scusa questo è per il momento anche su questo c'è una tech note che dice su Android è possibile in questo modo su iOS è possibile tramite account differenti eccetera sulla stessa infrastruttura tra su due sistemi tra su uno di testa e su uno di forse senza struttura attenzione ma sono due device comunque di fatto no è un device unico si però funziona si 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 corretto si la richiesta è sono due però attenzione che vengono create le due utenze hanno un ID di device identico quindi diceva non è che poi questo provoca problemi sul fatto che appunto sono due utenze che hanno lo stesso ID device ma questo non crea assolutamente problemi perché comunque vengono registrati a nome dello stesso device anche nomi diversi l'unica cosa che però ve lo do come warning quando poi uno fa un po' di pulizia attenzione esatto perché se fai lo wipe lo fai per entrambi gli utenti però questo è abbastanza logico visto che il device è unico c'era una persona là che poverino prego grazie grazie questo dipende anche da che tipo di MDM viene utilizzato allora con la 9001 mi sembra sono state rilasciate tutta una serie di API pubbliche proprio per questo tipo di integrazione in più per quanto riguarda i nostri prodotti Tivoli invece io ho fatto una prova un test prima delle ferie con un collega Tivoli di integrazione del nostro ambiente di MDM con Domino e con Traveler effettivamente c'è stiamo facendo un'integrazione più spinta non so dire con altri strumenti di MDM diciamo che ci stiamo lavorando ho fatto già di avere delle API insomma è comunque documentata questa cosa trovate sempre nel wiki sì esatto non c'è che io sappia non c'è per il momento non c'è è un ottimo spunto questo sicuro però al momento non c'è quindi il rischio è che si cancella l'utente lato domino e poi rimangono i dispositivi che vanno gestiti a mano per il momento certo vanno seguiti quei comandi anche su tutte le sicurezze da togliere proprio a livello di Traveler potrebbe essere un enhancement request perché sicuramente è utile questo sono d'accordo anche perché non lo gestisce l'admin p e questo probabilmente è quello che al momento blocca un po' i laboratori perché se fosse un processo gestito dall'albmp sono convinta che l'avrebbero già dato visto che qualcosa che va messo in append al momento ancora non c'è però ottimo spunto per un enhancement request sicuramente altre domande vediamo l'ultima parte sì l'ultimissimo suggerimento poi lascio la parola Antonio se no mi spara prima di aprire un PMR guardate i link che fanno vedere quelle che sono le limitazioni già note del prodotto attenzione non bachi ma proprio limitazioni perché alle volte uno si dice ma come ho un dispositivo questa cosa la fa o un altro dispositivo non lo fa ecco non siamo allineati su tutto quello che fa un dispositivo piuttosto che un altro quindi qui ho messo due link mi raccomando seguiteli perché sono veramente utili passo velocissimamente la parola Antonio Antonio hai meno un minuto almeno è almeno perché fuori si stanno stanno già mangiando o meno 14 minuti più o meno chi conosce IBM Mobile Connect o l'ha installato nella sua architettura ok quindi vabbè un argomento che potrebbe interessarvi sarò velocissimo visto che comunque stanno già mangiando prima che ci finiscono tutto abbiamo parlato di sicurezza abbiamo parlato di sicurezza che quando si discute di applicazioni che vanno su device mobile è un argomento che ultimamente sta diventando molto caldo e IBM Mobile Connect è un prodotto che negli ultimi tempi molti clienti hanno installato e configurato e aggiunto alla propria infrastruttura Traveller che consente appunto di aggiungere lo strato di sicurezza necessario a livello di network di encryption del traffico tra i device mobili e il server Traveller Che cos'è IBM Mobile Connect velocemente? È una soluzione VPN che consente appunto l'accesso sicuro ai dati è possibile utilizzarlo con un client il mobility client oppure è possibile utilizzarlo in modalità senza client attraverso un banalissimo browser sfruttando la possibilità di configurare dei servizi http sul server Vado veloce Le componenti di Mobile Connect sono il connection manager che è il core il server supportato su AX AnSolaris Linux Red Hat Suse Windows Mobile Client anche lui si installa su PC laptop e anche su device mobili ma per quanto ci riguarda l'integrazione con Traveller la modalità client che ci interessa è quella del servizio http e poi c'è un'interfaccia di amministrazione chiamata gatekeeper dove si fanno definire tutte quante le risorse necessarie per configurare il servizio siamo già oltre sostanzialmente come funziona il device non accede direttamente al server Traveller ma si collega al Mobile Connect sul Mobile Connect viene eseguita l'autenticazione con diversi metodi sono supportati per quanto ci interessa principalmente directory led up v3 compliant quindi di diversi tipi è supportato anche un'autenticazione con protocollo radius secure id oppure con certificato ovviamente il Mobile Connect supporta il single sign on nel caso specifico che ci interessa l'LTP a token è supportato per cui l'autenticazione del Mobile Connect può essere poi configurata in single sign on con Traveller e i server domino di posta il Mobile Connect fornisce una strong authentication certificata FIPS quindi con gli algoritmi più robusti che ci sono sul mercato altre informazioni veloci le informazioni di configurazione e le informazioni di dati di sessione degli utenti vengono salvati o su file system per installazioni piccole test via dicendo oppure meglio su database relazionali viene supportato il DB2 e il CQL Microsoft il Mobile Connect supporta l'alta affidabilità quindi può essere lui stesso messo in alta affidabilità con davanti quindi un load balancer e supporta a sua volta il load balancing dei server che ci sono dietro quindi se abbiamo un pool di server traveller noi possiamo configurarli in questo modo l'IBM Mobile Connect si preoccupa lui di fare da da load balancer per i servizi che deve erogare qualche altra caratteristica te diciamo qualche caratteristica specifica del Mobile Connect quando lo si configura con con traveller c'è appunto nella configurazione un flag specifico da aggiungere per specificare che il servizio che stiamo configurando è un servizio traveller e questo ottimizza il traffico ottimizza il traffico e ottimizza anche il bilanciamento degli utenti non si comporta quindi diciamo come un classico bilanciatore o un diciamo reverse proxy ma un bilanciamento intelligente perché ricorda l'utente e ricorda anche il server traveller sul quale l'utente è configurato e attestato all'interno del pool di server traveller presenti passerei direttamente a vedere un esempio di diciamo un caso reale che abbiamo presso uno dei nostri clienti e così vi racconto velocissimamente che cosa va configurato a livello di mobile connect come vedete i device accedono al mobile connect il mobile connect fa autenticazione LDAP nel caso specifico del cliente è un LDAP domino per fare questo va definito sul mobile connect qual è diciamo il server di directory necessario e successivamente un authentication profile authentication profile dove si aggancia quel server di directory e si definisce in toto qual è il campo utilizzato per l'autenticazione e via dicendo fatto questo va configurata nell'altra direzione il servizio HTTP il servizio HTTP sarà un servizio HTTP che punterà ai server traveler del pool che verranno elencati tutti all'interno del servizio e nel caso reale sono indicati anche appunto il cluster del DB2 che contiene l'informazione di configurazione e il cluster del DB2 lo stesso cluster del DB2 utilizzato dal traveler in alta affidabilità ho lasciato nella presentazione un link che spiega bene l'architettura le configurazioni avevo avuto pochino più tempo per spiegarlo nel dettaglio ma ormai abbiamo fatto tardissimo vi consiglio comunque di cercare sia sul wiki di Domino e traveler che sul wiki di mobile connect informazioni più approfondite su su queste architetture grazie grazie io chiudo salto tutto l'incutili ringrazio tutti quanti ringrazio gli sponsor ovviamente ci inchiniamo di fronte di sponsor che permettono anche a noi di essere qui vi invito eventualmente se avete domande a porci domande dopo che siamo usciti davanti magari a qualcosa da mangiare per evitare il cale degli zuccheri ringrazio ancora Antonio e Simona che hanno dato sicuramente un valore molto aggiunto a questa sessione e ringrazio domino poi che mi ha invitato ci ha invitato a parlare qua oggi grazie a tutti buon pranzo grazie a tutti grazie a tutti